Bene, quest'anno mi trovo a parlare anziché a suonare come è successo una volta negli anni scorsi. Ho portato alcuni epigrammi, l'epigramma è un componimento molto breve, nasce nella poesia antica, ha avuto il suo massimo esponente in un poeta latino che si chiamava Marziale, da una lettura molto divertente, contrariamente a quello che ci raccontano a scuola, se mi capitasse mai, ed è stato completamente dimenticato come forma artistica nelle letterature moderne, in particolar modo nella letteratura italiana, questo perché anche l'italiano è una lingua molto lenta, ha bisogno di molto tempo, è una lingua ariosa, se così vogliamo, quindi è difficile fare componimenti, di scrivere componimenti molto secchi, che siano come sferzati, che descrivono le situazioni in italiano. Io però ho voluto riprendere, dopo quasi, modestamente, dopo quasi duemila anni che questo componimento non era più usato, ho voluto riprenderlo, ma per ritrovare la velocità del latino che l'italiano non ha, ho dovuto ricorrere a un'altra delle lingue che parlo, essendo di Mantova, il dialetto Mantovalo. Mi scuso magari con quelli che non capiranno perfettamente, ma poi sono seduto là a bermi qualche birra se non capite qualcosa, vi faccio la traduzione. Ho letto filo in un solo giornale, salto sotto la finestra perché ti ha gastato i miei con la pensione. Cosa dovresti fare, Memo, allora, che la mai c'è anche un master? Mi penso che la tendrà da propria ben, se vuoi fare niente e tutti ti cerchi a te, la prima vera che il mondo vincò con te solo con gli amici in diposti giusti. Il tuo filo che piace mangiare il baffo, non piace anche a me, se ti capisce. Il tuo lamento che fa gli sorrisini ironici è l'ora che ti ha in peste i piedi, preferisco che gli disciaffoni. Grazie. Gesmaroni perché poi io sono già un po' più mesi di più lecce, ma che mi è che ti guarda, non è che ti metto in scaffale o che ti parlo con Diori. Marcial ha la zero a mandare la sportiva, mi lecara il cuore. Passi il tempo nella mia maniera, in Italia sotto quello essere raccomandata è lingua futrale. Faccio i singoli e le bestie perché istruiscono la meraviglia delle donne a forza a tutti, e non altre, con le nostre ben tenute ma sempre ancora niente, cosa sembra? Solo due cose fa male nel mondo, Néstor, e io lavorare e faccio delle pacche. È giusto sapere perché l'Italia, che da sempre prende tanto al mondo in art, scienze e cultura, adesso mi sapevo male. L'acchiera mia è scusa a San Patrisi, ne dà l'acqua che resta sola a me. Meno a parli, parli troppo, e su mia quante volte hanno pentito di aver dirne una parola in più c'è, ma mai te lo giuri, davvero così. La bella stagione l'acbriga arriva a stagione, ma l'aria è stata tutta fiorita dal parfum delle pudelette fuori da scuola. Una putina a tre anni e suo papà, io scontavo a passare il suo malone, medioeggio per giù, e mi troppo spesso a vettere da giù, ma ne incroppi in giù. Ho incrociato un merlo in strada, a San Vardà, con lui la fischia e l'eula io. L'eula fischia tre, ma su mia sta calda a terra. Applausi L'attentore, se in di libera da scuola l'ave scritto, da renta ai suoi capolavor, la fam che ha fatto tutti i poeti, che lezione anche a quella, su mia sarebbe mai tolta in manna pena. Ad disi da vecchi tre maestri, Christ, Socrate, Guevara. Tutti i tre hanno dato un gran esempio di giustizia e tutti i tre fanno male. Ad cambia mio il mondo, Memo, cambia maestri. Parliamo pure di religione, Salve, mica il signor ha fatto proprio bene, e pensi che anche lui un po' mi estima. Ecco, ci sono tanti foschi che lo ho disprodito. Caro la terra, che ti smessi sempre prima del sole, lascia che ti faccia gli auguri per l'anno. Speri, in un po' di mese, da l'esercito in l'ultima pagina della Gazzetta. Ad sei in bottega, trezz'ore al dì, che fai mai in vita ferie. Tutti dici che sei un bravo padre e che fai mancare niente ai tuoi, ma il socle sono una fan caroni e bessi, che vendaressi tomater per l'eula. Il dì del funeral del mio vizino, prima della Gazzetta, in un bordello di San Crispino, a celebrai la vita. «T'esordati, tesordati l'alac, disse sempre la pasticcera a la comessa, ma se la savesco la fa dret bottega, con suo marito, la sarei menys medins». «Sdesso va dal caldo, all'ora striminzita delle piante dal tè, e tirava un po' di fia, non una cucina, ma due amici». «Ponsi». E anche a Ponsi hanno venuto in mente tanti versi con le sue silabe giuste. Ha detto di aspettare al mattino, ma è più il mio. E ci sono le vissute con lumi, carta e bianco. «Se sta prendendo, corga il sole, ma anche ci appare la sguassa quando più, al fatto lei nemmo, che mi piace tutto il mondo». «Una alpugletta accompagna d'un ninfo al servizio mille sovori da Slaldi, ma è più più buona che ha metto il sorriso». «Butà in strada dal terremoto, i siga, è io e mia, che sui prari la gena luna, grande a me informai, che splen sol per l'ora». «Attisi che piatta come l'è la pianura letterista, per me, che è la mia fantasia, che sa fio su un greco, accere una ninfa in ogni fos e chissà che credere». «Potreste essere soddisfatti di questa lettura, eppure mi chiedereste ancora pochi versi, ma il capoccia mi chiede gli interessi, i lavoratori vogliono essere pagati, pubblico, pagateli voi». «State zitti e non dite niente? Allora ciao, buonanotte». «E questo era Marziale, vi saluto con due prossimi versi, io ho qualche libretto da darvi, poi ce l'ho, ma se vi comprate in libreria quello di Marziale è molto più divertente». «Aplausos» 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 «Aplausos»